Sono 1946 le attività commerciali chiuse nell'ultimo anno in Calabria, di cui 732 solo nella provincia di Cosenza. Seguono Reggio Calabria con 528 e Catanzaro con 365 attività cessate. Non va meglio a Crotone e Vibo Valencia, dove complessivamente hanno abbassato definitivamente la Sara Cinesca a 322 commercianti. Questi i dati allarmanti, diffusi dalla Filcams CGL, che ha organizzato per il prossimo 9 giugno un incontro pubblico per illustrare i fattori di crisi del settore del commercio e sollecitare le istituzioni a ricercare soluzioni immediate. Prima di qualsiasi altro provvedimento, chiede il sindacato, è necessaria la nomina di un assessore regionale al commercio. Stiamo registrando chiusure di attività commerciali che ci preoccupano. Ci preoccupano sia per quanto riguarda l'economia della nostra regione e dell'area urbana cosentina, ma soprattutto per i posti di lavoro che stiamo perdendo. Noi abbiamo registrato oltre 1600 chiusure di attività commerciali, ma quello che ci preoccupa ancora di più non è solo la chiusura delle attività commerciali al dettaglio, quando il fatto che la grande distribuzione stia andando via dalla Calabria. Noi vogliamo lanciare un grido di allarme. Questa regione non può prendersi il lusso di rimanere senza assessore regionale al commercio e senza assessore regionale al turismo, che sono i due settori che potrebbero essere trainanti per questa economia della regione. E la giunta regionale è priva di questi due assessori.